Si andrà al ballottaggio a Chieti per conoscere il nome del nuovo sindaco. A sfidarsi saranno il primo cittadino uscente, Umberto Di Primio, che ha ottenuto il 36% e l'esponente del centro-sinistra, Luigi Febo, che ha superato il 30% dei voti. È un margine certamente soddisfacente, non è un margine sufficiente perché amo pensare che si riparta dagli stessi blocchi di partenza. Certo, è indubbio, un 6% in più in questo momento con tutto il fuoco che è stato sparato dal centro-sinistra vuol dire che siamo per davvero forti e vuol dire che per davvero la città sta con noi. D'altronde, vede, io non ho fatto venire nessuno a parlare per me. Io ho parlato con i cittadini e non ho bisogno di nessuno che venga a dire le cose che voglio fare io. Le cose che noi vogliamo fare sono le cose che vogliamo fare insieme alla città e sono le cose che faremo insieme alla città. Ci sarà un avversario per tutti l'astenzionismo? Ci sarà un problema per tutti che si chiama astenzionismo e che dobbiamo battere tutti insieme. Non è possibile far scegliere i primi cittadini, i presidenti della regione a poche migliaia di persone. Noi abbiamo detto che se andava al ballottaggio, d'altronde 8 candidati sindaci, 23 listi, era praticamente impossibile non andare al ballottaggio. Siamo felici di questo risultato perché comunque partiamo con un vantaggio piuttosto consistente, oltre il 6%, oltre 1.500 voti. Peraltro abbiamo riconfermato la presenza del centro-destra e in questo caso anche di Forza Italia in città. Nella debacle del centro-destra, il 63 è passato al 36% e noi sostanzialmente con un raggruppamento molto ristretto, perché l'altra volta c'era anche con noi Selle e l'altra Chieti, abbiamo avuto un ottimo risultato, attestandoci credo se le cose rimangono come sono, intorno al 31% e se mettiamo insieme tutto il mondo che nel 2014 ha sostenuto Luciano D'Alfonso, arriveremo quasi al 50%. In vista di eventuali apparentamenti potrebbero risultare decisive le liste civiche che fanno capo a Bruno Di Paolo. Sono soddisfattissimo perché è un risultato eccezionale per un movimento civico come il nostro. Noi eravamo partiti da un presupposto, superare il 7,96 delle precedenti amministrative, ci siamo riusciti, non era facile. Si parla già di apparentamenti, Di Paolo appoggerà chi nel ballottaggio? Io ripeto, dovrò vedere i programmi di Primio e di Luigi Febo, perché finora ho sentito parlare soltanto di porchetti e arrosticini, lo ribadisco, forse da stasera o da domani si comincerà a parlare di programmi perché il mio obiettivo è far vincere Chieti, né Di Primio né Luigi Febo. Buono anche se al di sotto del dato nazionale il risultato del Movimento 5 Stelle. Secondo me ci attestiamo comunque ad essere almeno la terza forza politica a Chieti e questo è un risultato che giudico positivo perché comunque segna un cambiamento per la politica di questa città.